You talking to me, talking to me, talking to me, talking to me, talking to me. Napoli, piazza Trieste e Tentro, le telecamere dello Strillone assistono a un'operazione a favore della legalità portata avanti dai vigili urbani del comando di Napoli. Infatti, venite con me e scoprirete il perché. You talking to me, talking to me, talking to me, talking to me.